Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, oggi parliamo di un argomento che sul mio canale come sapete è molto raro, parliamo di elettrico e nello specifico parliamo delle batterie, batterie che utilizziamo nelle nostre auto radiocomandate buggy ma anche GT ma anche tutto ciò che riguarda appunto il mondo elettrico, le loro caratteristiche e ovviamente ragazzi vi darò qualche informazione tecnica, non sono un grandissimo esperto nel settore elettrico ma cercherò di fare del mio meglio, cercherò di darvi quante più informazioni possibili sull'argomento batterie e ovviamente vi resteranno utili anche se non fate automodellismo ma magari fate aeromodellismo magari fate le barche magari fate qualunque tipo di hobby di sport dove sono impiegate le batterie iniziamo dalla tecnologia queste batterie sono batterie lipo da non confondere con le batterie lion, le lipo sono batterie ai polimeri di litio mentre ad esempio sulla maggior parte dei vostri smartphone vengono utilizzate le lion che sono batterie agli ioni di litio per quanto riguarda le lion una delle batterie sicuramente più famose è la 18650 che sembra una mega pilona a stilo e viene utilizzata in tantissimi ambiti compreso anche nei pacchi batteria delle auto Tesla ma in cosa si differenziano queste due tecnologie le batterie lion sono batterie ad alta densità di carica quindi vengono utilizzate nella maggior parte dei casi quando si deve immagazzinare tanta corrente in poco spazio quindi smartphone pc le lipo solitamente hanno densità di carica leggermente inferiore in realtà se proprio andiamo a analizzare tutti i dati dipende dal modello di lipo di cui stiamo parlando infatti si riescono a trovare anche lipo con 100 c o superiori mentre le lion arrivano massimo a 20 30 c quindi per farvi arrivare a capire di cosa sto parlando in questo video farò degli esempi riportati all'idraulica in modo che sia un qualcosa di più comprensibile per tutti e che riusciate a capire con dei semplici esempi quindi nell'esempio lipo lion le lion sono serbatoi più grandi ma hanno un piccolo rubinetto di uscita mentre le lipo sono serbatoi più piccoli ma che hanno un grande rubinetto di uscita che consentono quindi a questo serbatoio di svuotarsi molto più velocemente quindi risulta adesso più chiaro capire come le lion siano molto più adatte per dispositivi che hanno bisogno di maggiore durata di batteria ma di poca potenza mentre le lipo siano batterie adatte a dispositivi che richiedono grande potenza ma una durata molto ridotta come ad esempio le auto rc come ad esempio tutto ciò che riguarda il mondo rc droni auto aerei eccetera eccetera questa batteria ragazzi è una batteria 2s mentre le nostre auto radiocomandate sono alimentate nella stragrande maggioranza dei casi a 4s o addirittura a 6s nel caso del buggy quindi la categoria che faccio io si alimentano a 4s per regolamento il 6s è praticamente ormai vietato in tutti i regolamenti nazionali ma cosa vuol dire 2s 3s 4s 2s sta a significare due celle in serie perché come sapete esiste il collegamento in serie o in parallelo nel collegamento in serie la tensione delle singole celle si somma mentre la corrente resta uguale nel parallelo la tensione resta uguale mentre la corrente si somma questo perché nel collegamento in serie la corrente si trova a dover attraversare entrambe le celle mentre nel collegamento in parallelo metà della corrente verrà da una cella e l'altra metà verrà dall'altra quindi se questa è una batteria 2s e io per alimentare la mia auto buggy ho bisogno di una 4s dovrò continuare la serie quindi collegare due di queste batterie in serie per avere appunto una 4s e raddoppiare quindi il voltaggio portandola da 7,4 volts a 14,8 volts che appunto l'alimentazione corretta per le nostre auto rc andiamo adesso a vedere tutte le caratteristiche quindi tutti i numeri riportati sopra ogni singola batteria così che sarete in grado anche voi di interpretarli e di capire la qualità di una batteria attenzione ragazzi perché tantissime volte vengono riportati dalle aziende numeri non voglio dire fittizi ma comunque poco reali quindi alcune cose possono essere verificate tranquillamente da noi con alcuni stratagemmi per altre caratteristiche purtroppo ci vogliono attrezzatori specifiche e noi non siamo in grado di poter verificare la veridicità di queste informazioni però soprattutto sul dato dei C di scarica state molto attenti perché nella maggior parte dei casi le aziende bleffano per simulare di avere una qualità migliore e quindi marciano un po su questo dato ecco questa è un po la premessa ma andiamo a vedere ogni singolo valore la tensione si misura in volt e rappresenta la forza che tende a far spostare gli elettroni da un punto ad un altro del circuito sempre per riportare l'esempio nell'idraulica la tensione rappresenta la pressione quindi appunto la forza che tende a far circolare l'acqua o un liquido nel circuito la corrente ampere rappresenta la quantità di elettroni che attraversano il circuito in un determinato tempo sempre per fare l'analogia con un circuito idraulico questo parametro indica quanti litri d'acqua al secondo passano nel condotto la potenza si misura in watt e si ottiene moltiplicando la tensione per la corrente ed è fondamentale perché questo parametro si mantiene sempre ad esempio un moto elettrico trasforma energia elettrica in energia meccanica e ovviamente anche in calore perché ci sono delle perdite durante questa trasformazione la potenza rimane uguale mentre tutte le altre grandezze in gioco cambiano la capacità si misura in ampere ora o in milliampere ora e rappresenta la quantità di corrente che può contenere la batteria questa batteria ad esempio a 8200 milliampere ora ciò sta a significare che può sprigionare 8,2 ampere per un'ora per tornare a fare il paragone con l'idraulica questo parametro è la grandezza del nostro serbatoio in questo caso viene facile anche fare il paragone con le auto in scala 1 a 1 questo parametro è la grandezza del serbatoio della benzina quindi più questo numero sarà alto più benzina avremo da poter utilizzare risulta quindi chiaro che ad esempio una batteria da 5000 milliampere ora sia utilizzata in un circuito che assorbe 5 ampere durerà soltanto un'ora mentre se viene utilizzata in un circuito che assorbe 2,5 ampere durerà due ore mentre se viene utilizzata in un circuito che assorbe 10 ampere durerà mezz'ora parliamo adesso dei fattori di scarica c constant e c burst i c constant o più semplicemente c rappresentano quanto velocemente una batteria può essere scaricata senza danneggiarsi il valore c burst invece sono i c di picco ciò vuol dire che rappresenta la corrente massima che in grado di erogare la batteria ma solo per qualche secondo senza danneggiarsi quindi quando leggete i parametri state molto attenti se sono c di picco o c perché ovviamente la differenza è fondamentale e adesso che abbiamo capito come funziona vi faccio notare perché i c dichiarati dalle case costruttrici di batterie talvolta siano leggermente gonfiati una batteria come questa da 8200 mAh se avesse 100 c e 125 c burst sarebbe a significare che potrebbe erogare 820 ampere costantemente e 1025 ampere per qualche secondo quindi insomma sono valori che poco hanno a che vedere con il mondo rc a mio modo di vedere ma giudicate voi molti di voi si stanno chiedendo perché ho in mano una batteria da 2s invece di una da 4s visto che le auto rc nella categoria buggy vanno con le 4s molti di voi potrebbero pensare che nella mia macchina si debba utilizzare due pacchi splittati come ad esempio succedeva con chioccio o con asso con tantissime macchine bene non è così io potrei usare indifferentemente un pacco unico da 4s o due pacchi da 2s ma io scelgo sempre e ugualmente di utilizzare i pacchi 2s e vi dirò anche perché vi dirò anche questa informazione le case costruttrici nella stragrande maggioranza dei casi soprattutto quelle del mondo rc metta molta più attenzione nella costruzione di pacchi 2s rispetto che in quelli da 4s perché la categoria che sicuramente nel mondo rc ha più bisogno di potenza e di efficacia dal punto di vista delle batterie è sicuramente una 10 touring quindi prendendo batterie 2s ci sono maggiori possibilità che la batteria abbia un trattamento privilegiato da parte del costruttore nella sua realizzazione ovviamente ragazzi mi potete scrivere che sono tutte cavolate che non è vero le batterie vengono costruite tutto uguale ok ma le aziende di alta competizione vi garantisco che lavorano con questo sistema e io ho avuto modo appunto di parlare con alcuni costruttori che mi hanno dato questo consiglio disinteressato e così io utilizzo sempre pacchi 2s inoltre ragazzi se si rompesse una delle due batterie basta cambiare metà pacco batterie invece di tutto intero mentre nel caso della batteria 4s come si rompe una singola cella io ho tutto il pacco da cestinare beh ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero di avervi dato informazioni interessanti ne usciranno altri su questo canale dove vi dirò tante altre cose sulle batterie spero che questi argomenti vi piacciono ovviamente mettete tantissimi mi piace fatemi capire che volete sentire parlare di elettrico e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video ciao